Luca Loretti, domenica esordio in Superlega, quando Anastasi si è girato verso di te, ti ha detto che era il tuo momento, cosa hai pensato, quali sono state le sensazioni? Sicuramente è stata un'emozione indescrivibile perché l'esordio in Superlega non si scorda mai. Inizialmente ho capito poco perché mi ha chiamato, sono andato lì e mi ha detto di entrare, quindi sono entrato e appena sono entrato però le emozioni sono subito svanite perché mi sono subito concentrato sulla partita, su quello che dovevo fare, su ricezione e difesa e poi sono andato tranquillo. Adesso immaginiamo che dovrai portare le paste o qualcosa da mangiare, cosa ti hanno chiesto i tuoi compagni? Sì assolutamente, ancora non mi hanno chiesto nulla ma so già sicuramente che dovrò portare le paste ma sono felice di questa cosa quindi le porterò tranquillamente. Senti, primo anno in Superlega, che differenze noti con l'A2 che tu conoscevi? Sicuramente ci sono tantissime differenze a partire dalla società, dal campo, la velocità della palla è totalmente un'altra cosa rispetto all'A2, anche i sistemi di gioco, le varie opzioni e sicuramente ci sono molti 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 dettagli che sono differenti. Hai davanti un campione del mondo come Scanferla e cerchi di rubare qualche segreto anche a lui? Assolutamente sì, durante l'allenamento cerco di guardarlo nei movimenti, nei movimenti di difesa, nei movimenti di ricezione e appunto lo guardo e ammiro molto come si comporta durante l'allenamento e durante la partita. Quindi sei al primo anno di Superlega però hai già vinto tanto con la nazionale giovanile, l'obiettivo per il futuro? L'obiettivo per il futuro sicuramente con la nazionale, quello di arrivare più avanti possibile e quest'anno abbiamo i mondiali con l'Under 22 e quindi sogniamo in grande col mondiale e con Piacenza voglio diventare il titolare ovviamente. Quindi vuoi descriversi anche un po' chi è Luca Loreti fuori dal campo? Ma Luca Loreti è un ragazzo simpatico, un po' timido a volte però un ragazzo simpatico e giocherellone.